Parliamo di Canon EOS R6 Mark II. Questa fotocamera è adatta a fare fotografia di prodotto, fotografia still life? Questa è una domanda che mi è stata posta da uno di voi e oggi vado a dare una risposta in questo video. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi inauguro un nuovo format. Mi state scrivendo moltissime domande nei commenti e non solo e se alcune volte mi riesce molto bene rispondervi in forma scritta, perché spesso la risposta è solo un sì o un no, esistono invece delle volte in cui un sì non è assolutamente sufficiente e in cui anzi mi viene proprio voglia di darvi una risposta più lunga, più esaustiva, perché trovo la domanda particolarmente interessante. È proprio il caso di una domanda che mi è pervenuta in questi giorni, ve la vado a leggere. Non faccio i nomi degli utenti perché dovrei chiedere la liberatoria per la privacy a tutti quanti, però sono sicuro che chi guarda il video mi capisce. Vorremmo iniziare a fare foto e video dei nostri prodotti, la maggior parte in ambienti interni. Stavo pensando all'acquisto di una R6 Mark II con obiettivo 24-105. Pensi possa bastare come attrezzatura? È troppo? È troppo poco? Siamo agli inizi e sto cercando di capire come fare il giusto investimento. Allora, vado a dirti il mio parere che non è la verità rivelata, è solamente un punto di vista, è solamente quello che io reputo essere l'investimento migliore in questo caso. Ma prima di farlo voglio ricordare a tutti quanti che se argomenti come questo vi possono interessare potete segnalarmelo in un commento così farò altri video in cui rispondo alle vostre domande. Potete andare a iscrivervi al canale così non vi perdete le risposte, cliccate anche la campanella così non vi perdete neanche gli altri fantastici mirabolanti contenuti. Lasciate anche un like a questo video di incoraggiamento per farmi capire che un contenuto come questo vi stimola. A questo punto però io prima di cominciare vado a farvi vedere la prop del giorno e vado a mostrarvela da vicino perché secondo me merita veramente tanto. Questo è un oggetto, come spesso mi capita, è un oggetto che mi è stato dato da fotografare. Non so se riuscite a vedere. Questo è una prop cinematografica, è un coltello dal film Rambo 3. Il cliente che mi ha commissionato lo shooting è un collezionista, mi ha affidato alcuni dei suoi oggetti, questo in particolare non so se riuscite a vedere. Questo è un coltello firmato, ovviamente è una firma serigrafata, con il numero di serie, quindi è un pezzo da collezione che oltre ad avere un suo valore, perché insomma 6.482 su 10.000 diciamo che ne sono stati fatti pochi pezzi. Io l'ho trovato un oggetto molto interessante, è un gladio incredibile, vi assicuro che è una lama devastante. Sarà molto divertente fotografare questo oggetto, fatemi sapere se vi interessa vedere il risultato perché potrei anche farci un video, ma avete poco tempo per farmelo sapere perché poi lo devo restituire. Bene, ma arriviamo un po' al succo di questo video. Io risponderò per i dati che ho dentro nella domanda, quindi vado a immaginarmi che cosa deve essere realizzato. Facciamo finta che sia per me, facciamo finta che io abbia dei prodotti da fotografare, facciamo finta che io non abbia fotocamere ovviamente, quindi parto da zero, devo comprare qualcosa. Innanzitutto mi devo domandare qual è la destinazione finale delle mie fotografie, perché come sempre se la destinazione finale delle mie fotografie è solo ed esclusivamente Instagram, lì devo anche farmi un ragionamento, vale la pena spendere, stiamo parlando di 3.000 euro di fotocamera più 1.500 euro di lente per mettere le cose su Instagram? Probabilmente no. Probabilmente spendendo metà della cifra mi prendo l'iPhone più figo della terra e faccio tutto con quello, perché comunque ormai si fa così, quindi bisogna anche farlo questo ragionamento. Lo so che non è bello, non è elegante soprattutto da parte mia, ma se la destinazione finale è Instagram, spendere quei soldi per Instagram non ha molto senso. Però non esiste solo Instagram, esiste anche il sito web, esistono anche le riviste, le pubblicazioni, i cartelloni, quindi qualsiasi altra cosa che non sia Instagram, sì, lì c'è bisogno di qualcosa che scatti in maniera un po' più professionale di un telefono cellulare. Quindi se stiamo parlando solo di Instagram, obiettivamente spendere tutti quei soldi è un po' troppo. Se stiamo parlando di pubblicità to cure, quindi se stiamo parlando di inserti sulle riviste, magari i volantini da stampare, se stiamo parlando di cartellonistica, se stiamo parlando di sponsorizzate di altro tipo che non siano solamente sul display del cellulare, può avere molto ma molto senso andare a fare un acquisto di questo tipo. Può avere senso anche e soprattutto se vogliamo realizzare delle foto un po' particolari, perché comunque con l'iPhone è vero che riusciamo a fare la foto da mettere su Instagram, è vero anche che questa foto sarà molto piatta. Quindi questa è la prima cosa che dobbiamo considerare. La seconda cosa che dobbiamo considerare, qui vado nello specifico sull'attrezzatura che mi viene citata. Ora, la R6 Mark II è una fotocamera molto costosa, ma che cos'è che ti stanno facendo pagare? Andiamo a esaminare quali sono le caratteristiche forti di questa fotocamera. Innanzitutto le specifiche video. Quindi sì, ti danno il 6K RAW, se ricordo bene, quindi un formato video impossibile da usare, ingestibile, quindi un formato per quanto mi riguarda inutile, perché poi bisogna avere un'astronave di computer per gestire quel formato laddove, come già detto, se si lavora per i social va benissimo il Full HD. Se si lavora per qualcosa di più dei social c'è comunque un bellissimo 4K, ma questo ormai ce l'hanno tutte. Quindi non c'è bisogno della R6 Mark II per fare il 4K, perché io lo sto facendo in questo momento con la R7. Quindi per fare un 4K fatto, direi più che bene, perché questa fotocamera ha un 4K meraviglioso, non c'è bisogno della R6 Mark II. Io sto usando la R7, funziona benissimo. Caratteristica principale della R6 Mark II è, a mio parere, il sistema di messa a fuoco. Quindi abbiamo un sistema di messa a fuoco che è una corazzata, è stato progettato per delle scene veloci, per dello sport, per delle scene magari di wildlife, per un'azione veloce. È quello che ti stanno facendo pagare fondamentalmente, perché se noi lavoriamo, e quindi torno alle poche informazioni che ho, mi metto nei panni di un'ipotetica persona che deve scattare prodotto. Se io sto scattando a camera ferma, col prodotto fermo, non c'è molta differenza tra una R6 Mark II e una Canon EOS 6D prima versione. Non c'è tutta questa differenza, perché stiamo lavorando in un contesto dove la luce è controllata. Abbiamo gestita noi la luce, le ho accese io, le ho posizionate io, ho deciso io la scena. Non c'è movimento, quindi non c'è la necessità, di quella rapidità di messa a fuoco. Quelle due fotocamere, per quanto siano molto diverse, perché la R6 Mark II, cioè dalla polvere alla 6D, su tutti i fronti, qualità di immagine, gamma dinamica, pulizia del sensore ad altiso, velocità di messa a fuoco, tutto, qualsiasi cosa, gli dà letteralmente le piste alla povera 6D. Ma in quel contesto la differenza non si vede così tanto, perché è un contesto che privilegia le fotocamere vecchie, è un contesto di luce controllata dove non sta succedendo niente, dove noi siamo a nostro agio, possiamo premere quando vogliamo, non abbiamo fretta, non c'è bisogno di una messa a fuoco full mia, possiamo focheggiare anche a mano, tanto l'oggetto è fermo. Per cui il ragionamento mio in questo caso è la R6 Mark II. È una bella fotocamera? Sì, è bellissima, è strepitosa, è la fotocamera che chiunque vorrebbe. Se l'obiettivo è esclusivamente fare foto still life, me la immagino per un ipotetico e-commerce, quindi magari con fondo bianco, ma mi immagino anche degli still life ambientati. Però comunque sempre di still life si tratta, quindi oggetti fermi con luce controllata. Una fotocamera di quella fascia di prezzo non serve praticamente a niente in un contesto del genere. Certo ci darà un'immagine molto bella, molto pulita, ma nulla che non potremmo ottenere anche con una fotocamera molto più bassa per quanto riguarda la fascia di prezzo. Quindi visto che stiamo parlando di un attivitàio, la ragiono in senso imprenditoriale, dico non c'è bisogno di fare quell'investimento per ottenere quel risultato. Per ottenere quel risultato, e qui vi dico, andatevi a recuperare un video che ho già pubblicato sulla Canon EOS 700D. È una entry level, è una reflex entry level, sembra un giocattolo, una macchina dei bambini. Andatevi a vedere quel video, ve lo linko in card, veramente fidatevi di me, andatevelo a vedere perché per fare still life, quindi camera ferma, luce controllata, per fare still life quella fotocamera è uno spettacolo. È uno spettacolo assurdo, ma perché? Perché non entra in gioco nessuno dei suoi punti deboli. Non dobbiamo focheggiare in fretta, non dobbiamo farla lavorare ad altiso. Quelli sono i punti deboli di quella fotocamera. Se non entrano in gioco i punti deboli della fotocamera, quindi se siamo in luce controllata e a camera ferma, non abbiamo questo problema. Per quanto riguarda i video, il discorso cambia secondo me molto poco. Magari la 700D non è la più adatta per fare video. Questo no, non fa nemmeno il 4K e comunque non ha una resa adeguata. Quindi in quel caso potrebbe andare bene qualcosa di un pochino più progredito. Però comunque il concetto è sempre lo stesso. Siamo in un ambiente dove controlliamo noi tutte le variabili, controlliamo noi la luce, sappiamo già quello che sta succedendo. Non è un evento, capito? La R6 Mark 2 io la vedo perfetta per un evento, per un matrimonio. Cioè entrano gli sposi, io devo essere fulminio, non ho tempo di seguire la scena con gli occhi, ho bisogno di un sistema di messa a fuoco che mi aiuti, che vada lui a trovare la sposa e a metterle a fuoco sull'occhio alla perfezione al primo colpo. Lì la vedo veramente bene una fotocamera come questa e lì vale tutti i soldi che costa. In un contesto di still life secondo me non ne vale la pena. Secondo me, e qui mi sbilancio davvero, per un contesto di still life fotografico la 700D va benissimo anche nel 2023. Ovviamente non sto qui a consigliarvi di prendere una fotocamera con un sistema di lenti ormai superato. Quindi vi dico, potete andare sulla R10, perché la R10 ha un sistema fotografico di tutto rispetto. Funziona tanto bene quanto la R7 che sto utilizzando in questo momento. Per quanto riguarda il video, idem dicasi, ha un eccellente sistema video che dà quasi le stesse cose della R7, manca il log, manca il C-log 3, che è il motivo, uno dei motivi per cui ho acquistato la R7. Non è il massimo della performance Canon EOS R10, però è un'ottima fotocamera e secondo me per fare still life, foto, video di still life in un ambiente controllato, è molto meglio rispetto alla R6 Mark II. Non perché sia una camera migliore, ma semplicemente perché costa meno, perché mi permette di raggiungere lo stesso risultato facendomi spendere di meno, molto meno, sostanzialmente la metà. Quindi diciamo che imprenditorialmente se mi dicessero di mettere su un'attività dove si fotografano prodotti still life, io non comprerei una R6, ma comprerei una R10, perché mi permette di fare sostanzialmente la stessa cosa, però avendo risparmiato un bel po' di soldi. E attenzione, perché se parliamo di still life, lo still life non dipende dalla fotocamera, dipende un pochino dall'ottica, col 24-105 fai tutto, quindi non è un grosso problema quello, ma non dipende dalla fotocamera, dipende dall'illuminazione, perché se io ho una buona illuminazione, anche una fotocamera del cacchio mi porta a casa il mio risultato. Se ho un'illuminazione non adeguata, posso avere una Hasselblad e la foto vi è male lo stesso. Perché? Perché il prodotto non è illuminato bene. Perché vi ho fatto vedere questo all'inizio? Ve lo siete domandato? Non era solo esibizionismo. Ve l'ho fatto vedere per un motivo. Vedete come cambia la forma di questo oggetto mentre io lo muovo? Vedete i riflessi, come si comportano? Se io dovessi fotografare questo oggetto probabilmente lo metterei in questa posizione. Vedete la lama come è evidenziata in questo momento? Non lo metterei in quest'altra posizione. Vedete adesso come si confonde con lo sfondo. A seconda di come la luce va a interagire con il nostro soggetto, cambia tutto. Quindi la fotografia still life è prevalentemente luce. Per questo motivo io direi non è tanto importante la fotocamera che stiamo utilizzando, è molto più importante il sistema di illuminazione. Avete già capito dove vado a parare? Io sostanzialmente cercherei di risparmiare qualcosina sull'acquisto del corpo macchina per andare a investirlo in luci, per andare a investirlo in una softbox, per andare a investirlo in un cubo di luce, un sistema di illuminazione delle led, delle tube rgb, delle godox con un softbox come quello che uso io con un beauty dish. Dipende anche dal prodotto che dobbiamo fotografare perché per esempio se, dico una stupidata, sono bottiglie, sono oggetti riflettenti di forma cilindrica o conica, allora dobbiamo andare a prendere degli stripbox. Per fotografare un oggetto di quel tipo servono gli stripbox e ne servono un paio probabilmente. Quindi dipende molto da cosa stiamo fotografando. L'impianto luminoso sarà il responsabile, il primo responsabile della nostra fotografia e nel momento in cui abbiamo un set di illuminazione adeguato alla scena che stiamo riprendendo. Il nostro iPhone farà una ottima fotografia pur non essendo una camera eccezionale. Mentre se mettiamo una camera eccezionale come la R6 Mark II in un contesto dove l'illuminazione non è curata, la fotocamera farà il suo mestiere, ovvero metterà a fuoco veloce come un treno e scatterà 40 frame al secondo di un prodotto non illuminato bene. Infatti a questo servono le ammiraglie, le top di gamma. Perché io non le compro le ammiraglie? Perché non le prendo neanche in considerazione? Perché quelle sono fotocamere che sono pensate per un contesto dove non è gestita l'illuminazione. Sono pensate per reagire in frettissima in un contesto sfavorevole. Sono pensate per fare sport. Immaginatevi io sono sotto la pioggia, sto scattando una partita di rugby e devo seguire l'azione al buio e allora mi vado a prendere un'ammiraglia, allora mi vado a prendere una R3 o insomma un'ammiraglia di qual si voglia a casa. In quel momento mi serve la camera che performi in quel modo perché è una partita di rugby io non ho il controllo sull'illuminazione quindi ho bisogno di una fotocamera che mi aiuti sulla messa a fuoco e sulla resa ad alti ISO. Ma quando io scatto still life in un ambiente di luce controllata non ho bisogno della fotocamera che mi aiuti sulla messa a fuoco e sugli alti ISO perché gli ISO li tengo bassi, tanto gestisco io l'illuminazione e la messa a fuoco veloce non mi serve tanto è uno still life tutto fermo, quindi secondo me assolutamente si può andare a risparmiare su questo acquisto. Per quanto riguarda il 24-105 quella è un'ottima lente, ce l'ho anch'io anzi ne ho due, ho fatto un video in cui le recensisco entrambe perché ho sia la versione L sia la versione non L quindi sono due lenti con cui mi trovo benissimo e fra l'altro state vedendo un video fatto con la versione non L in questo momento quindi andatevi a guardare il dettaglio sul mio faccione, vedrete che comunque è una lente bella, io la trovo molto definita, non sfigura per niente questa lente qui, ha lo svantaggio dell'apertura variabile che è seccante ma qui intanto siamo in luce controllata e quindi a me non fa un baffo questa cosa. Ora faccio una precisazione, io sembra che voglia dissuadere in questo caso dall'acquisto di una R6 Mark II, non è così, io quello che dico è la vuoi comprare perché ti piace, la vuoi comprare per coccolarti, la vuoi comprare perché magari hai esperienza in fotografia e quando lavori vuoi lavorare in un certo modo, la vuoi comprare perché vuoi la sicurezza di quello che stai facendo, vuoi essere tranquillo che hai in mano un carro armato professionale oppure, perché questo è il caso veramente che non ho valutato, oppure la vuoi comprare perché non fai solo still life in studio ma ci potrai fare anche altro, magari ci farai qualcosa di un po' più movimentato, magari la produzione si espande, hai bisogno di una cosa un po' più prestante, vuoi fare un acquisto solo e non averne due? Va benissimo allora, il senso è, se ce la possiamo permettere, va benissimo, è una fotocamera favolosa, ma è letteralmente favolosa, di certo non ci lascia delusi, quindi l'unico motivo per cui io posso pensare di non acquistarla è perché posso ottenere la stessa cosa spendendo di meno. Nel momento in cui decidiamo di acquistarla sappiamo che stiamo facendo un acquisto della madonnissima perché è una macchina meravigliosa, sappiamo anche che probabilmente non la sfrutteremo al 100%, se questo ci sta bene la possiamo prendere tranquillamente perché comunque assolve meravigliosamente al suo scopo. L'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso è che ci sono diverse funzioni, molte feature del corpo macchina che non stiamo utilizzando ma le stiamo pagando, perché comunque all'acquisto a fotocamera la paghiamo tutta. Quindi l'unica cosa che mi fa storcere il naso è questo, diciamo che non è necessaria, indubbiamente non è necessario andare in giro in Porsche, si può benissimo andare in giro con la Fiat Punto, il discorso è semplicemente questo, se il nostro obiettivo è andare dal punto A al punto B possiamo tranquillamente prendere la Punto, se ci fa piacere viaggiare con stile e possiamo permettercelo prendiamo tranquillamente la Porsche perché comunque ci porta lo stesso dal punto A al punto B e va anche più veloce. Bene amici io spero di aver risposto al quesito che mi sono ritrovato tra i commenti, vi invito a questo punto anche a farmi sapere se questo tipo di format vi piace, vi può interessare, perché a questo punto io posso prendere spunto dalle vostre domande per realizzare dei contenuti dove vado veramente a risolvere dei problemi che mi avete posto, quindi non sto più tirando a indovinare quali sono argomenti che vi possono interessare ma me li state proprio fornendo voi. Fatemi sapere se è una cosa che vi può interessare, vi ricordo se non l'avete ancora fatto che il bottone iscriviti è qui sotto ed è bello caldo, fate volare quegli indici, iscrivetevi subito, attivate anche la campanella e lasciate anche un like a questo video e signori io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao